a me mi sa che non si fa una tega però va bene dai col sys no no ah c'è il sys? no no non lo so avevo letto prima forse su discord no però c'è il sys e cosa fanno al sys? mi lo mandi a 44 cos'è sta roba no no no